Nell'ambito dei consueti festeggiamenti per il Santo Evangelista nella frazione San Marco di Castellabbate il prossimo 25 aprile, il Comune si appresta ad accogliere la comunità di Torricella, provincia di Taranto, per la sottoscrizione del patto d'amicizia tra comuni devoti al Santo. La cerimonia si terrà martedì 23 aprile con un ricco programma istituzionale e religioso. Alle ore 18 in piazza comunale ci sarà l'accoglienza ufficiale della delegazione pugliese e alle ore 19 la Santa Messa presso la chiesa di San Marco Evangelista, celebrata dal reverendo arciprete di Torricella Don Antonio Quaranta e dal parroco di San Marco di Castellabbate Don Pasquale Gargione, con la partecipazione del coro interparrocchiale San Costabile. Seguirà alle ore 20 la firma dei sindaci Costabile Spinelli e Michele Schifone per suggellare l'amicizia tra le due comunità. Il 25 aprile una delegazione di Castellabbate composta dal consigliere comunale Assunta Niglio e dal responsabile dell'ufficio di promozione turistica e culturale Enrico Nicoletta raggiungerà Torricella per sottoscrivere il primo dei legami culturali, turistici ed economici tra le comunità marciane. Oltre che con Torricella Castellabbate sottoscriverà infatti il patto d'amicizia anche con i comuni di Cellino San Marco, San Marco Argentano e San Marco Evangelista. Intanto la frazione di San Marco di Castellabbate si sta animando per riattesi festeggiamenti con una serie di iniziative che culmineranno il 25 aprile con la tradizionale e suggestiva processione via terra e via mare sui pescherecci. Il sindaco Costabile Spinelli, in merito alla sottoscrizione del gemellaggio, commenta così l'iniziativa. Intorno alla figura di San Marco abbiamo inteso creare una sinergia oltre i confine tra le comunità devote all'Evangelista, un patto d'amicizia che intende soprattutto creare attività comuni e scambi culturali e religiosi tra fedeli.